Yemen, Siria, Libia, l'area del Golfo, il Mediterraneo, popoli che soffrono, si muovono tra guerre e minacce, questioni indubbiamente complesse. Le foto che vedete sono quelle che sarà possibile ammirare fino a domenica 1 novembre presso il Polo Museale di Lanciano in occasione della mostra fotografica Yemen, bellezza ferita di Antonio Carlucci. Un incredibile e pericoloso viaggio dieci anni orsono ha consentito all'appassionato medico di imprimere scatti sulla quotidianità dello Yemen, uno dei più antichi paesi di civilizzazione della storia dell'uomo. Volti e gesti soprattutto. Antonio Carlucci ma le ferite possono cancellare tanta bellezza? Io credo che non bisognerebbe abbassare la guardia se solo potessimo farlo. È importante l'appello che all'epoca nel 70 Pasolini fece all'UNESCO proprio per cercare di mantenere questo tipo di architettura, questo tipo di bellezze e in qualche modo poi l'UNESCO tenne conto, tanto che nel 86 definì Sanà capitale dell'umanità, patrimonio dell'umanità. Quello che possiamo fare oggi forse è molto meno di quello che si poteva fare nel passato proprio per la presenza del fondamentalismo islamico e lo Yemen purtroppo è uno dei luoghi di addestramento delle milizie di Al-Qaeda e quindi questo rende ancora più difficile oggi questa azione volta a tutelare quelle bellezze, quelle bellezze artistiche, quella naturalezza di vita, di comportamenti, quella spontaneità direi. Mi è piaciuto fotografare le realtà di vita, la donna con l'asino, la donna che porta ad abbeverare le capre, i bambini che oziano per le strade, con scene del tutto naturali proprio. Un'occasione per capire e riflettere è stata quella dell'inaugurazione della mostra con la presenza del sottosegretario agli esteri Benedetto della Vedova, alle prese ogni giorno con i dossier più delicati di politica internazionale. Comunque la bellezza dello Yemen insieme alle sue ferite è davvero da ammirare nella mostra in programma. Grazie. 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 Grazie.